Cibo in estate, ho raggiunto il dottor Norcia a casa di amici a Capalbio dove è venuto, pensate, per preparare una ricetta estiva che meriti così di essere ricordata anche in inverno. Di cosa si tratta dottor Norcia? Beh, questo è un cacciucco alla Livornese e quindi puntualizzo alla Livornese perché ormai il cacciucco viene fatto in mille modi, c'erano tanti sistemi. Questo è il classico, il classico cacciucco alla Livornese prevede non il prezzemolo ma la salvia, quindi un po' di aglio, si potrebbe anche non mettere aglio, la salvia, tanta salvia e poi ovviamente tutte le possibilità che abbiamo del pesce fresco, quindi quello di giornata. Noi abbiamo scelto della gallinella e della coda di rospo, ovviamente mazzancolle e scampi, lì ci sono le cozze, lo vedete, e poi in pentola già ci sono degli altri pesci, visitata di seppie e calamari. Quindi il piatto è fatto, basta saperlo cuocere, ovviamente con la base è un bel sugo di pomodoro, io metto sempre pomodori freschi, non metto olio a soffriggere per esempio con l'aglio, con la salvia, tutto a crudo e tutto insieme. Allora quanto ci vorrà per cucinare questo piatto? Praticamente un'oretta, un'oretta e mezzo facciamo tutto. Ecco, allora io ti lascio alla preparazione e poi vedremo il piatto finito e ci dirai anche a cosa fa bene per la nostra salute. Bene. Ecco qua, il piatto è terminato, la pietanza è stata cucinata e il dottor Noccia sta preparando i piatti ai commensali che alcuni si sono già seduti. Allora, abbiamo detto il cacciucco alla Livornese, a cosa fa bene per quanto riguarda la nostra salute? Beh, direi intanto la virtù del pesce, un alimento importantissimo, direi soffermiamoci sulla presenza degli omega 3, che sono necessari nel nostro organismo, soprattutto per formare le varie cellule, soprattutto per quello che riguarda la membrana citoprasmatica. Quindi è importante per questo, ma è importante soprattutto che è un antiossidante vero, naturale e che ci serve a invecchiare meglio, cioè previene le malattie di invecchiamento, a cominciare dai tumori, dalle malattie cardiocircolatorie e poi da malattie che ormai diventano sempre più importanti che sono l'Alzheimer e il morbo di Parkinson. Quindi diciamo quasi una panacea, possiamo dire, il cacciucco, perché è pesce. Certo, direi tanto che chi non mangia pesce dovrebbe aggiungere un po' di olio di lino alle vivande durante i pasti, proprio perché noi abbiamo bisogno di omega 3 e non si trovano facilmente in natura, quindi è difficile trovarli se non proprio nel pesce e ne contiene tanti. Quindi direi che questo è il valore del pesce e il valore del pesce è anche lo stare insieme, fare allegria, convivere insieme a tavola, vuol dire creare anche momenti di gioia che fanno bene alla nostra salute, cioè più siamo felici e più la nostra salute ne ha dei vantaggi. Bene, da Capalbio noi vi salutiamo e a questo punto iniziamo a mangiare. Buon appetito!